Questo è il rapporto che io ho preso con la città da quando sono arrivato, il rapporto che è stato conseguenza dell'affetto che mi è stato da subito dimostrato dalla gente, dalla tifoseria, ma anche da quelli che non sono tifosi della regina, che magari vedono il calcio in maniera meno presente nella loro vita. Sono stato trattato benissimo e quindi io mi sento in debito con la città e infatti è un qualcosa che l'amore che loro danno per me è ricambiato cento volte, al contrario. Il regalo ai tifosi di Jeremy Menezes, una stella, un colpo incredibile per la Serie B e per Reggio. Sì, quello sì. Se si parlava di me avrei detto il contrario, ma quando si parla di qualcun altro non faccio fatica a esaltarlo. Secondo me Menezes è un grande giocatore, un grande campione per quello che ha dimostrato in passato per quello che dimostrerà in futuro, giocatore di grande qualità. Questo è un grande acquisto, va Regina. Io ne sono convinto, è un grande giocatore. Regina che punta, come altre squadre in passato, a fare la doppietta, subito in A, così si arriva al 70% del sogno. Io punto a salire in Serie A, sì. Io sì. Ma io conto quello che posso. Poi c'è il mister, ci sono i calciatori. Loro stanno con i piedi per terra, loro sanno quello che devono fare e laddove possono arrivare. Io non nascondo quello che sono i sogni miei, quello di andare in Serie A. È un sogno. Io sogno. A lei non piace sognare. Cosa dirà sabato ai tifosi? Presenterò Geremì Menezio. Sarò molto emozionato di stare vicino a un campione di questo tipo, Udini, come veniva chiamato. Sarò molto emozionato. Io lo presenterò, ma non mi metterò a un angolo a guardare quello che avverrà, a guardarlo come faranno tutti i tifosi, come loro.